Io non credo che le vere radici del terrorismo siano da ricercare in qualcosa di religioso o in una situazione geopolitica. Io credo che l'origine del terrorismo vada ricercato nell'odio, che coltiviamo ognuno di noi quotidianamente. Ogni goccia di odio che cade nel nostro essere confluisce in un oceano collettivo di odio e le guerre, gli atti terroristici, gli atti di violenza sono il prodotto della nostra intimità. La scelta dell'amore è una scelta di sopravvivenza e di evoluzione in questo pianeta ed è alla radice del nostro sentire che noi abbiamo un'enorme responsabilità. Shivananda, un saggio dell'India, diceva «Dalle nostre idee derivano i nostri pensieri, dai nostri pensieri derivano i nostri comportamenti, dai nostri comportamenti derivano le nostre scelte, dalle nostre scelte deriva il nostro destino». Il nostro destino è una scelta ed è nelle nostre mani. Alla radice del nostro sentire noi costruiamo il nostro destino, individuale, relazionale e collettivo. Grazie a tutti!